Per me, adesso lo posso dire perché il televoto è chiuso, per me tu meriti di lasciare la casa del grande fratello. E ti dico un'altra cosa, che se il pubblico, te lo dico perché voglio essere chiaro fino alla fine, se il pubblico avrà deciso diversamente, cioè se il pubblico avrà deciso di tenerti nella casa del grande fratello dandoti una seconda possibilità, Elenuar, te lo dico adesso davanti a tutti, come te l'ho detto in confessionale con l'attenuante, se tu sbaglierai un'altra volta, questa volta la squalifica partirà da noi. Senza televoto né niente, sei squalificata, te lo dico subito. Ok. Ok? Elenuar, il pubblico ha deciso che devi abbandonare la casa. Grazie.